Musica Ben trovati, pagina sportiva del TG Noi che apriamo con i motori, con il rally città di Camaiore che nonostante le polemiche per l'incidente avvenuto ha regalato tante emozioni dal punto di vista sportivo. Un solo secondo, poco più di un battito di ciglia e la coppia Pisani-Manfredi vince il 21esimo rally città di Camaiore. L'equipaggio su Renault-Nucleo ha preceduto di un solo secondo la coppia Gaddini-Innocenti. È stata una gara tirata, quella organizzata da Balestrero e Camaiore Motorsport che ha visto Gaddini a giudicarsi 4 prove speciali e Pisani le rimanenti 2. Gaddini è rimasto in testa per molto tempo ma nella penultima prova, quella più lunga, Pisani, navigato da Manfredi, ha inflitto all'avversario ben 6 secondi recuperando così i 5 di scarto. Per Pisani e Manfredi si tratta della seconda affermazione consecutiva al città di Camaiore. Sono veramente contento, sono contento per Jasmine anche perché non è stata una stagione facile per noi, sono contento per Gabriele Ciavarella che comunque ci ha aiutato un'ulteriore volta, ci ha riportato qui un anno dopo e speriamo di averlo ripagato nel modo giusto. Al di là dei due leader della classifica generale, la gara 89, gli equipaggi al via, ha visto protagonisti anche un altro pilota, il locale Bertolozzi, che con ragghianti aveva per la prima volta a disposizione una efficiente Clio Williams. Soddisfacente anche il quarto posto di Panzani, navigato da Baldacci, all'esordio con una Renault Clio R3T. Tra le vittorie di classe da segnalare è quella di Pieruccini nella 6 con una Peugeot 100 Serelli e quella di Marchetti nella 5 con la MG ZR 105. Farà tappa a Lucca domani e poi anche il 6 ottobre la manifestazione internazionale di Orienteering denominata Five Five Days Tuscany che vedrà al via 500 partecipanti provenienti da tutta l'Europa. Domani la corsa di orientamento si svolgerà partendo dal complesso di San Francesco alle 9.30 del mattino. E adesso il calcio, torniamo sulla vittoria del Ghiviborgo contro la Massese raccontandovi nel dettaglio la partita. Nella quinta giornata del campionato di Serie D Ghiviborgo ospita lo stadio Porta Elisa-Lamassese di Andrea Danesi, squadra che si candida ad un ruolo da protagonista e che viaggia nella parte alta della classifica con i sette punti incamerati in quattro partite. I bianco-rosso-azzurri di Fanani cercano la prima vittoria stagionale, tre punti in grado di cacciare i fantasmi di un avvio tutt'altro che esaltante nonostante tante buone prestazioni che si sono risolte in un solo punto. Ed è proprio il Ghiviborgo a mostrare sin dall'inizio un passo in più. Nel primo tempo Taddeucci e compagni mettono alle corde i bianconeri sfiorando a più riprese il gol del vantaggio. La poca cattiveria in fase realizzativa, un po' di sfortuna e un barzottini che in qualche maniera riesce sempre a cavarsela impediscono però ai padroni di casa di trovare la via della rete. Dopo tante occasioni sprecate nel primo tempo i gol arrivano nella ripresa. Al 22esimo è Carignani a realizzare l'1-0. Su un tiro cross il numero uno della Massese respinge corto e il giovane giocatore di Ghiviborgo la scaglia dentro. Nel finale di gara c'è spazio anche per la gioia di Marino Taddeucci, il bomber che non era riuscito ancora ad andare in rete. Al termine di un veloce contropiede guidato proprio da Taddeucci è lo stesso ex attaccante lucchese a finalizzare di testa per il definitivo 2-0. Una vittoria che vale doppio per il Ghiviborgo perché non solo è la prima affermazione della sua storia in Serie D ma anche perché ritrova il bomber che potrebbe portarlo lontano. E adesso il basket, i nuovi colori bianco-rossi portano bene alla Gio Nova Centro Mini Basket Lucca che all'esordio in C-Silver vince subito contro la Leburnia Basket 68-53. Un incontro a due facce, i lucchesi hanno faticato nei primi due quarti poi sono venuti fuori alla distanza grazie a Danesi autore di 18 punti. E sempre in C-Silver da segnalare la sconfitta del Bama Alto Pascio battuto a domicilio dal Prato. 71-65 si salva Caciolli autore di 21 punti. E chiudiamo con il tennis perché si sono disputate ieri le finali del torneo Open maschile e femminile secondo trofeo Alimac Città di Pietrasanta. La finale maschile ha visto di fronte Matteo Marrai e Adelchi Virgili. La vittoria ha Marrai con il punteggio di 5-7-6-3-7-6 mentre nella finale femminile quella fra Corinna Dentoni e Giulia Remondina è stata quest'ultima a vincere con il punteggio di 6-4-7-6. È tutto per la pagina sportiva, una breve pausa e poi la terza parte del TG Noi.